porca miseria porca ricca è un dramma ricca è un dramma ma come ma che sarà guarda sei sicuro che non l'hai lasciato ma no l'ho lasciato su allo starbucks me l'hanno fottuto facciamo i documenti i soldi avevo le foto dei bambini avevo il passaporto guarda innanzi dammi la mano dammi la mano allora stai tranquillo per i documenti non ti preoccupare ci pensiamo io salvatore ti facciamo un bel documentino ora c'è un ragazzo dell'est europa che ti assomiglia parecchio io non voglio essere fermata alla frontiera rivolgo i miei documenti ah mi fede negli americani allora lo troveranno e te lo portano ma che fede negli americani si beh buoni gli americani devi raccomando ma come buoni gli americani ma l'hai lasciato qua aspetta almeno magari ti chiamano vengono a portarcelo ci sono su gli indirizzi è tutto stai tranquillo fai quante volte l'ho perso io telefono aspetta ma è comunque stai sereno chi è che cammasone va a fare la mattina non ti puoi agitare tutte le mattine allo yes sì ah sì 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 sono io Pierpaolo Benigni sì ma davvero mi hai ritrovato il portafogli però guarda veramente mi hai fatto veramente un regalo guarda io non so come ringraziarti ma ma dove stava sul bancone ecco guarda meno male guarda meno male che c'è di te una persona a posto ma pure italiano sei ma pensa te senti noi siamo io sto con un abito qui con un mio amico in uno scantinato sotto sotto il panice restaurant tu sei lì di fronte non è che scendi un secondo e d'agroporti grazie grazie mille grazie grande l'ho trovato va bene stai tranquillo adesso è tutto da vedere se sei in italiano se ci sono dentro i soldi ancora però ma i soldi non mi frega niente c'erano 10 dollari cioè non è che non è quella e i soldi non mi entri sei pagato la colazione con i tuoi soldi ma va bene gliela offro io la colazione non è un problema avanti avanti dobbiamo farla sistemare capito ciao ciao sono io ciao 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 e io sono riccardo facciamo un programma sulla televisione noi purtroppo devo andare via ragazzi c'è claudio santa maria ragazzi non sono claudio santa maria il dendi grande onore di avere claudio con noi oh fabio salvo ma che ci fai grandissimo claudio claudio questo è fabio troiano è un amico mio oh fabio troiano fabio troiano lo scherzo che abbiamo benissimo in New York mi viene a trovare ragazzi a me viene a trovare puoi restare facendo un programma no ragazzi non farlo per me non ci vediamo parliamo del tuo film che devo uscire faccio uno per salvo due se parliamo del mio film grande grande o bravo e tra poco tra l'altro siamo in onda e quanta decada quanta volta vogliamo noi siamo a posto ma sigla sigla sapendo che c'era il grande grande fabio troiano con noi avevo pensato di prendere due pasticcini eh guarda quello è emulsicato se vuoi prendi quell'altro questo ecco questo l'ho leccato non è tanto buono guarda questo poi dopo dopo se mai io me lo finisco se non ti dispiace me lo finisco ma tranquillo mangio pure eh lo poggio qui eh anzi no certo non li sanno proprio fare qua i dolci italiani comunque sono pieni di riguore la sfogliatella grande fabio troiano con noi oggi grande una puntata neanche a dirlo eh in diretta con voi i messaggi sono tutti dedicati a fabio troiano e al suo nuovo film di cui parleremo in questa prima parte nella seconda parleremo di lui dei tanti film che ha fatto dei premi e quanta grande salvo grande salvo grande salvo tra gli amici miei 340-8901-822 per mandare i vostri sms in diretta siamo stati uniti chiaccio alla gaminsu.it invece per mandare le mail che leggeremo tutte nella seconda nella terza parte i messaggi ovviamente anche nella prima se riguardano fabio ma anche no insomma mandate i vostri messaggi random noi avevamo una scaletta pronta adesso ci perdonerai se cerchiamo un po' di arrivare il portafoglio è suo ah sì tra l'altra cosa se mi puoi dare il portafoglio no perché questa devi sapere che il ragazzo si fa le mani perose no ma lo tenevo per te perché poi tu lo riperdi e mi preoccupo per te allora dicevo che è una scaletta che avevamo preparato chiaramente però la buttiamo la buttiamo proprio via perdonati cerchiamo di seguire intanto tu se riesci salvo a recuperare qualcosa qualche immagine del film che si chiama Family Game Family Game il 7 marzo intanto magari ne parliamo subito con te così riusciamo a recuperare le clip così possiamo far vedere qualche immagine quindi allora Family Game che esce il 7 di marzo e i protagonisti sono Stefano Dionisi, Sandra Ceccarelli e Fabio Troiano Fabio Troiano Santa Maria non c'entra nulla però è uguale comunque tu dicono immaginavo no nessuno no e niente un film parla di una famiglia una famiglia tipo Mulino Bianco Stefano Dionisi, Ceccarelli e i due bambini vivono in una casa bellissima lui è dottore, lei architetto, i due figli sono splendidi alta borghesia quando entrano in casa c'è una musica esattamente bellissima i mattines si fanno le sfoglie c'è il cane? immagino no non c'hanno il cane a un certo punto della loro vita entra nella loro vita entra il fratello di Stefano io un personaggio si chiama Andrea un ex tossico dipendente che va via dalla comunità e torna torna a casa torna dal fratello il primo impatto entrando in questa famiglia vede che questa famiglia borghese apparentemente Mulino Bianco in realtà ci sono milioni di problemi e il primo è l'incomunicabilità che è una parola che non riesco mai a dire però è e quindi a un certo punto questo inizia a dire ragazzi se voi non vi parlate qui i problemi rimangono sempre inconclusi repressi e compressi esattamente tutto il rischio della situazione e quindi questo ragazzo da pecora nera perché non viene accettato da nessuno dai bambini perché va a dormire nella loro camera dal fratello perché non lo vede da tre anni dalla moglie perché è una precisina avere un tossico in casa per lei è un milio hanno anche magari paura esattamente diventa poi il deus ex macchina della situazione nel senso che riesce a svicolare tutti i problemi come dette così la storia sembra molto interessante Salvo abbiamo qualche immagine le abbiamo caricate ok allora ci vediamo veramente per fortuna c'è Salvatore io ce l'ho sempre a portare di mano le cose dei miei amici partiamo con una clip clip di femmine